Musica Buongiorno e bentrovati, prima edizione di Ora Tg che apriamo con la cronaca ancora vittime di sbarchi. Un barchino con a bordo 46 migranti è affondato a 28 miglia da Lampedusa a morire una donna di 26 anni. Si tratta del secondo episodio in 48 ore. Domenica scorsa era morta annegata una bimba di due anni. Salvo Cutuli. Un altro barchino con 46 migranti a bordo è colato a picco a 28 miglia dalle coste italiane. Una donna di 26 anni originaria dalla costa d'Avorio è morta annegata. La giovane vittima è stata recuperata a esamine dai militari dell'imbarcazione intervenuta. Inutili i soccorsi a bordo nel tentativo di rianimarla. L'ennesima tragedia dopo quella di domenica scorsa, quando a perdere la vita fu una bimba di due anni. Otto e dispersi, 46 migranti recuperati dagli uomini della Guardia di Finanza, condotti al porto di Lampedusa e presi in consegna dai soccorritori di terra. Rifocillati e assistiti dai sanitari sono stati condotti all'hot spot di Contrada in Briacola. I superstiti, imbarcati a bordo di un barchino ad Asfax in Tunisia lunedì sera, sono stati avvistati a circa 60 chilometri dalla maggiore delle isole Pelagie e tratti in salvo. Si tratta di cittadini provenienti dal Mali, Guinea e costa d'Avorio. I nuovi arrivati sono stati trasferiti al centro di accoglienza dell'isola, dove al momento vengono ospitate 1.283 persone, fra cui 103 minori non accompagnati. In 280, su disposizione della prefettura di Agrigento, in mattinata, sono stati imbarcati sul targhetto Galaxy, il cui arrivo a Porta Empedocle è previsto in serata, per essere poi distribuiti nei centri di accoglienza presenti in Sicilia e nel resto del continente. E ancora cronaca, fortini di droga e armi sono stati scoperti in due distinte operazioni dai carabinieri a Catania, Costiglione di Sicilia, scattati arresti e denuncia. Armi e droga a Catania in provincia, arresti, denuncia e sequestri in due distinte operazioni portate a termine dai carabinieri che solo qualche mese fa, durante un servizio antidroga, avevano trovato il cucciolo di razza Rottweiler Dante a fare da guardiani in un fortino dello stupefacente. Nel cuore dello storico quartiere di San Cristoforo, i quattro pusser di 21, 22, 23 e 35 anni, gli ultimi due già conosciuti alle forze dell'ordine per progressi e arresti, sono stati pizzicati in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante. Nello stesso posto, in una casa in via di Giacomo, stavolta però i quattro avevano sostituito il molosso con ben sette telecamere di videosorveglianza, anche se questo accorgimento non ha impedito ai militari di sorprenderli, mentre nell'abitazione preparavano le dosi di marijuana e le vendevano ai clienti. Con un meccanismo a catena di montaggio, i quattro spacciatori si erano pure suddivisi i compiti, i ruoli ben definiti, sia per non far mai mancare lo stupefacente ai tossicodipendenti, sia per sorvegliare allo stesso tempo la zona così da scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine. In particolare uno di loro controllava i monitor, il secondo suddivideva la droga e la pesava, un altro ancora la impacchettava e infine il quarto la smerciava ai clienti. Strategici, gli appostamenti a distanza, seguendo altresì anche i clienti che ad ogni ora del giorno e della notte bussavano alla porta di quel supermarket della droga. Acquisiti elementi a sufficienza è scattato il blitz. I carabinieri hanno trovato i proventi dello spaccio, circa 700 euro, grammi di marijuana, uno spinello e dosi già confezionate e pronte per la vendita. I quattro sono stati trasferiti alla casa circondariale di Piazza Lanza. I carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia invece si sono recati nell'abitazione di un ragazzo che vive con la madre e la sorella. Una casa di quattro piani hanno trovato, nascosti in un vano contenitore del divano, una balestra in legno e metallo lungo un metro, una sciabola con lama di 89 centimetri e ancora un metal detector. All'interno di un barattolo di vetro, nascosto nel cassetto del soggiorno, sono state rinvenute ben 51 monete di presumibile interesse storico archeologico che verranno analizzate da personale specializzato per determinarne la provenienza e il valore. Nella camera da letto del ragazzo invece all'interno del cassetto del comodino i carabinieri hanno trovato due munizioni per pistola calibro 45 web, un pugnale con lama da 10 centimetri, tre spade con lame rispettivamente di 21, 19 e 21 centimetri. Proseguendo nelle perquisizioni i carabinieri hanno recuperato anche due ricce trasmittenti portatile e una pistola scacciacani, ma anche un paio di manette metalliche matricolate e diversi gradi di plastica e metallo appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Un freggio in metallo riportava anche la dicitura comandante di reparto. A casa di un suo amico invece hanno trovato due cartucce a pallini calibro 12 che il giovane non aveva motivo di tenere in casa. I due sono stati denunciati. Estorsioni camuffate da fatture false per prestazioni mai eseguite relative a forniture di materiale pubblicitario e materiale edile. I carabinieri di Caltanissetta, sul provvedimento emesso dal GIP su richiesta della DDA, hanno arrestato Giovanni Battista, vincitore per i reati di estorsione aggravata e autoriciclaggio aggravato, in concorso con Giuseppe Dell'Asta, già in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In particolare Dell'Asta avrebbe costretto la vittima, un imprenditore, a effettuare pagamenti tramite bonifico su un conto corrente intestato avvincitore che, nella qualità di socio di maggioranza e amministratore unico di una società di gestione di call center a responsabilità limitata con sede a Serra di Falco, avrebbe preventivamente messo in favore della vittima fatture false per prestazioni mai eseguite relative a forniture di materiale pubblicitario e materiale edile. Le somme di denaro versate sul conto corrente sarebbero state poi prelevate in contanti nel giro di pochissimi giorni tramite Bancomat. La vittima avrebbe versato in appena 15 mesi, pensate, circa 75 mila euro. Il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo della società di fatto non operativa e costituente soltanto in una scatola vuota utilizzata per l'emissione di fatture false. Andiamo adesso a Palermo, dove a Palazzo d'Orleà è stato presentato questa mattina un progetto pilota finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a finanziarlo con 1 milione 800 mila euro e la regione siciliana. Luca Licata Sensibilizzare, contrastare e prevenire bullismo e cyberbullismo sono questi gli obiettivi del progetto finanziato dalla regione siciliana. 1 milione e 800 mila euro le risorse messe a disposizione, somme che verranno impiegate nel monitoraggio attraverso linee dedicate di un fenomeno in crescita. Il progetto presentato stamattina a Palazzo d'Orlean è stato redatto dall'ufficio scolastico regionale e coinvolgerà il mondo della scuola. Sono dati molto preoccupanti ed è meglio che se esistono emergano in maniera tale che le istituzioni ne abbiano piena conoscenza e contezza ed ottino le misure idonee a contrastarle e a risolverle. Quindi la conoscenza di questi dati che apparentemente può anche impressionare da un lato, dall'altro lato è uno stimolo perché il governo regionale assuma le iniziative come quelle di oggi. Noi siamo aperti a tutti i contributi, sono felice del contributo di Telefono Azzurro, di Caffo che conosco da tanto tempo perché Telefono Azzurro è una risorsa, un fiore all'occhiello di tutto il nostro paese. Da anni, da decenni si è preoccupato di raccogliere in maniera a volte anonima gli sfoghi dei bambini, dei minori abbandonati, dei genitori. Che ci dia una mano per me è una fonte di sicurezza. Si tratta di un progetto pilota, prevede due step. Il primo riguarda la formazione di studenti e genitori ad essere messo in campo sarà un vero e proprio strumento di penetrazione all'interno delle scuole. Il secondo invece esce dagli ambienti scolastici e prevede una campagna di comunicazione indirizzata al mondo dei giovani. La regione è impegnata con l'ufficio scolastico regionale a costruire tutti i meccanismi di sensibilizzazione perché si possa lasciare un solco profondo nella testa di questi ragazzi e con dei progetti educativi. Detto questo io considero soltanto il primo passo quello che stiamo facendo perché è chiaro che ora dobbiamo anche cominciare a pensare ad una solida campagna di comunicazione. Formare in classe serve ma comunicare all'esterno serve forse di più e per questo abbiamo trovato altre risorse. In un progetto strategico va fatto tutto ma va comunicato bene quello che si può fare per interrompere definitivamente una catena folle che ci addolora profondamente. Secondo i dati estrapolati dalla piattaforma ELISA del Ministero dell'Istruzione in Sicilia il 23% di studenti e studentesse dichiara di essere stato vittima di bullismo, il 17% di aver preso parte attivamente ad episodi di bullismo mentre il 7% di essere stato vittima di cyberbullismo. I soggetti che devono essere coinvolti sono in primis le famiglie, io sono madre e sono nonna quindi non voglio colpabilizzare assolutamente le famiglie perché molto spesso non ci si rende conto nemmeno dell'espressione di questo disagio, però le famiglie devono essere molto più attenti e molto vicine, questi ragazzi sono minori, sono in una fase delicatissima. La scuola a mio avviso senza volere colpabilizzare nessuno ci devono essere delle figure formate per questo tipo di problema. L'episodio che è successo ha toccato tutti, tutte le famiglie per cui le istituzioni devono essere presenti in maniera assidua. E rimaniamo a scuola ma in questo caso per una notizia spiacevole, invitati all'incontro con l'astronauta Luca Parmitano ma impossibilitati ad effettuare riprese video. E quanto accaduto alle truppe delle emittenti televisive locali lasciate dietro la porta dell'aula magna dell'istituto Mario Cutelli e Carmelo Salanito di Catania dove era in corso la conferenza dell'ex comandante della stazione spaziale internazionale. Nonostante una nota della scuola che specificava orari e modalità della visita inviata a tutti gli organi di stampa dall'istituto hanno comunicato ai giornalisti una volta giunti sul posto che dalla staff dell'astronauta non avevano autorizzato la presenza delle telecamere. Un atteggiamento commenta il segretario di Assostampa Catania Filippo Romeo spiacevole e inopportuno nei confronti di chi giornalmente con enormi sacrifici e impegnato a raccontare quanto accade nei vari territori della Sicilia aver impedito di far conoscere all'esterno l'importante momento vissuto dagli studenti significa aver privato migliaia di telespettatori siciliani di una notizia dall'alto valore formativo e alla scuola conclude il segretario del sindacato unitario dei giornalisti di ricevere quelle ricadute positive che forse a cominciare da quelle immagini da questo appuntamento sperava di ricavare. Cambiamo argomento, la piaga della violenza sulle donne. Il Punto Rosa all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Aciriale accoglie e assiste donne vittime di violenza di mariti, compagni e fidanziati violenti. Il supporto medico e psicologico viene effettuato 24 ore al giorno inclusi i festivi e nel primo semestre di quest'anno pensate ha assistito già 41 vittime dichiarate. Ci dice tutto Salvo Cutuli. Nel primo semestre di quest'anno 41 vittime di violenza dichiarate sono state assistite dal personale del Punto Rosa allestito al nosocomio di Aciriale, un percorso dedicato attivo 24 ore al giorno, festivi compresi affidato all'esperienza di psicologi e assistenti sociali opportunamente formati. Dipartimento, quello accese che accoglie anche vittime di abusi provenienti da altri comuni seguendo un protocollo consolidato a salvaguardia di quante vengono perseguitate strappate alla furia di uomini violenti. Troppi casi di violenza contro le donne che sempre più spesso precipitano in femminicidio. Fenomeno che purtroppo non si arresta e continua a testare un certo allarme sociale nonostante l'inasprimento delle pene e leggi sempre più stringenti verso mariti, compagni e fidanzati violenti. A Aciriale all'ospedale Santa Marta e Santa Venera dal 2016 il Punto Rosa è il primo avviato in forma sperimentale nell'intero distretto dell'Aspa e adesso adottato in tutte e sette gli ospedali della provincia di Catania per venire incontro e assistere le donne vittime di violenza domestica o di rapporti sentimentali turborenti in cui la donna rimane travolta dalla reazione scomposta di uomini dispotici e maneschi. Rapporti che nei casi più estremi si tramutano in omicidi non solo madri ma anche figli minori o adolescenti intrappolati in sentimenti tumultuosi da cui senza un aiuto da parte di professionisti difficilmente le vittime ne escono integre. Non solo ferite corporee ma soprattutto sono quelle psicologiche a lasciare solchi profondi e indelebili in chi subisce abusi. Dal triage le visite specialistiche attraverso un percorso riservato studiato appositamente. L'azienda Asp, nella persona del direttore generale e dei vertici del direttore sanitario e di quello amministrativo hanno posto una grande attenzione. Intanto è stata istituita una reperibilità a 24H in tutti i giorni. Quindi questo significa c'è una risposta immediata. È stata realizzata anche nei vari pronti soccorso dei sette ospedali dell'Asp è stata realizzata anche la stanza cosiddetta rosa. È una stanza come potete vedere c'è un arredamento di accoglienza, c'è anche un computer dedicato, c'è un programma, abbiamo una modulista che viene utilizzata. C'è un ambiente che cerca di attutire il disagio che subisce una persona che viene in ospedale, che si rega in ospedale a volte portata dai carabinieri, a volte anche di sua spontanea volontà, quando si tratta anche di minori. È la sensibilità che devono avere tutti. Ringraziamo le porte dell'ordine, ringraziamo i nostri operatori sanitari che già dal triagista può avere già la percezione che si tratta purtroppo di un caso di aggressione o di un caso di violenza vera e propria fisica nei confronti della persona che si rega qui in ospedale. E questo tipo di sensibilità si è sviluppato. Lo sviluppo ha portato chiaramente a una rivisitazione continua anche del percorso da garantire a queste vittime. La dottoressa Rosanna Magro c'era nel 2018 quando vennero registrati 280 accessi di donne vittime di uomini violenti. Da cinque anni ad oggi la situazione continua a destare preoccupazione tra gli operatori affinando tecniche di accoglienza e percorsi riservati alla violenza di genere. La vittima arriva qui e deve essere accolta da personale adeguato, psicologi ed assistenti sociali che la seguono durante tutto il percorso, sia interno che esterno, perché nel momento in cui si completa l'ITER all'interno del pronto soccorso viene affidata alla rete territoriale dei servizi o direttamente collocata in protezione qualora fosse necessario dal pronto soccorso. Purtroppo è un fenomeno che non si arresta? Purtroppo no, i casi sono tanti. Abbiamo cominciato come luogo sperimentale dell'Aspa di Catania nel 2016 e nel 2018 abbiamo avuto un picco di 280 accessi di vittime e continuiamo ad avere nel primo semestre di quest'anno ad esempio sono stati 41 i casi. Quindi nonostante l'alta sensibilità il fenomeno continua ad essere ancora molto presente. E i casi come si diceva appunto nel servizio continuano a susseguirsi. Avrebbe perseguitato una donna di 40 anni della quale si era invaghito e che non lo ricambiava provocando uno stato di ansia e paura nella vittima che ha però deciso di denunciare tutto alla Polizia Postale. Le indagini hanno consentito al PM di richiedere o ottenere dal GIP un obbligo di residenza per un cinquantenne ritenuto responsabile dei delitti di atti persecutori aggravati dall'utilizzo di strumenti telematici e diffamazione. La vittima ha denunciato gli innumerevoli messaggi ricevuti, continui appostamenti e pedinamenti e le gravi diffamazioni subiti. Il cinquantenne avrebbe schernito ripetutamente l'aspetto fisico della vittima, l'avrebbe denigrata attribuendole molteplici relazioni con uomini e l'avrebbe accusata in modo ossessivo di una relazione con un suo conoscente inviando messaggi a tantissimi conoscenti ed amici della donna utilizzando svariate utenze telefoniche intestate fittiziamente a terzi. Per smascherare le presunte relazioni l'avrebbe pedinata frequentemente riprendendole e minacciando di divulgare foto e video che la ritraevano. Tutte queste condotte avrebbero causato nella vittima uno stato di ansia e paura costringendola negli ultimi tempi a non uscire più con gli amici. E proprio di questo scottante tema della violenza sulle donne purtroppo sempre attuale si parlerà oggi all'intervista alla nostra trasmissione d'approfondimento. A pochi giorni dalla giornata internazionale ospita in studio Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, la ventenne assassinata nel 2015 a Nicolosi dall'ex fidanzato collegata in diretta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parisi. Partendo dall'ultimo caso di femminicidio quello di Giulia Cecchettin parleremo del triste fenomeno ormai una vera e propria piaga sociale se si pensa che dall'inizio dell'anno sono oltre 100 le vittime e delle possibili soluzioni per cercare di fronteggiarlo. L'appuntamento questa sera alle 20 e 30 dopo il Tg della Sera è in replica domani alle ore 23. Cambiamo decisamente argomento. Si è tenuto in prefettura a Catania il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Maria Carmela Librizi per la predisposizione delle misure di vigilanza relative ai festeggiamenti a Gatini. A breve sarà annunciato anche il programma delle festività. Mario Grasso. A grandi passi verso la festa di Sant'Agata 2024, la festa religiosa e tradizionale tra le più seguite al mondo e che anno dopo anno diventa incubatore di primissimo impatto per la città di Catania e per la Sicilia nel sempre più complesso sistema turistico religioso europeo. Oggi al fine di valutare la predisposizione delle misure di vigilanza e sicurezza si è tenuto il primo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con oggetto i festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania che quest'anno, così come recita il calendario 2024, presenterà aspetti di assoluto rilievo in grado di far prevedere da subito un grandissimo numero di fedeli visitatori durante i giorni cruciali dei festeggiamenti e cioè sabato 3 febbraio poi domenica 4 febbraio lunedì 5 febbraio giorno della festa. Dalla riunione convocata dal prefetto Maria Carmela Librizi emerge chiaramente la porta collaborazione tra tutti gli attori che organizzeranno la festa perché questa si svolga in massima sicurezza seguendo quelli che sono i canoni tradizionali. Le novità vengono annunziate quando ci sarà la conferenza stampa per la presentazione del programma. Adesso abbiamo avuto quell'incontro preliminare che ormai è diventata una bella consuetudine della nostra città, quella di mettere insieme le idee perché le situazioni problematiche trovano la giusta soluzione. Mi pare che l'incontro sia stato molto bello, aperto ad ogni tipo di considerazione, c'è la massima disponibilità alla collaborazione. Non credo che le norme sono cambiate, le norme sono quelle di sempre quindi non credo che ci possano essere cambiamenti in merito ma le decisioni del comitato verranno a suo tempo. Questo è stato un primo incontro interlocutorio in cui abbiamo visto tante cose e io ho detto scherzando non a 360 gradi ma a 380 che è una cosa che non esiste e un modo per dire che davvero abbiamo parlato con larghezza e con tanta serenità e tanto spirito di collaborazione. Questa mi pare che è la cosa più importante. Le criticità le conosciamo e sono sempre quelle. Le conosciamo le criticità. Verranno poi dettagliatamente spiegate quando i piani di sicurezza sono realizzati. Al comitato hanno preso parte il questore di Catania, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Catania Trantino, il mastro del Fercolo Claudio Consoli e in rappresentanza del nuovo comitato per la festa il presidente dello stesso comitato, Carmelo Grasso. Nessuna novità, cercheremo semplicemente di far svolgere regolarmente la festa come è stato sempre nel passato e quindi cercheremo che tutto vada per il bene, anche quest'anno. Per me è la prima volta come presidente, è una nuova esperienza dal punto di vista personale, cercherò di rendere al meglio il mio servizio, mettendomi a disposizione della comunità. Sì, verrà rispettato bene o male, come quasi per gli anni precedenti, quasi tutto il programma. Svolgere il tutto con la massima sicurezza che è l'obiettivo numero uno. Nuovo incidente sul lavoro, questa volta immattinata nelle campagne di Donna Lucata, in contrada Currumeli-Bommacchia, dove un tunisino sarebbe caduto da un capannone all'interno di un'azienda agricola. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l'uomo alla rovinosa caduta. I carabinieri stanno vagliando diverse ipotesi per fare maggiore chiarezza. Sul posto presente anche un'ambulanza per effettuare le prime cure alla vittima, che con ogni probabilità sarà trasportata all'ospedale più vicino per maggiori accertamenti. Anche l'elisoccorso è atterrato sull'area gestita dalla ditta. Torniamo nel capoluogo etneo, dove questa mattina si è tenuta una riunione congiunta tra il secondo e il terzo municipio per affrontare effettivamente la problematica riguardante la viabilità nella circonvallazione all'altezza della cittadella universitaria. Quello che si auspica è un nuovo sovrappasso per l'attraversamento pedonale. Recentemente il tratto di circonvallazione all'altezza della cittadella universitaria è stato teatro di tragici incidenti stradali costati la vita a due ragazzi. Una problematica fortemente attenzionata adesso dalle due municipalità che ricadono nel territorio, la seconda e la terza, che stamattina si sono riuniti in seduta etinerante congiunta per affrontare le problematiche inerenti alla viabilità delle viale Andrea Doria e la sicurezza veicolare e pedonale dello snodo viario Gioieni. Tra le varie ipotesi, quelle più accreditate, sembra essere la ricostruzione di un sovrappasso pedonale che consente l'attraversamento della carreggiata senza rischi per l'ingolumità delle persone. Siamo qui appunto per i fatti spiacevoli avvenuti un mesetto fa, quella povera ragazza che ha perso la vita sulle strisce pedonale. Ci siamo resi conto che questa parte del municipio ha altamente rischio di viabilità e sicurezza. Unica soluzione, le chiediamo la soluzione alla nuova amministrazione che si sta confermando abbastanza attiva su questo determinato problema. Però rimane il fatto che Canalicchio è rimasto emarginato dal resto della città perché con l'abbattimento del ponte sono stati creati anche altri problemi quando la chiusura di parecchie attività commerciali di Canalicchio perché la viabilità è stata dirottata altrove. Ovviamente siamo qui per il problema primario, la sicurezza. Abbiamo chiesto di trovare una soluzione definitiva a questa problematica. Che potrebbe essere un sovrapasso o un sottopasso? Potrebbe essere sottopasso, già nel passato è stato fatto un progetto ma ci siamo accorti che i sottoservizi non permettono la realizzazione del sottopasso. Quindi a mio avviso l'unica soluzione è il rifacimento del ponte. Per quanto riguarda Quilvia e Andrea Doria sono tante le criticità e noi sappiamo tutti. C'è un problema di viabilità soprattutto nelle ore principali al mattino. Ma ciò che serve, io ho sentito dire che il sindaco ha già fatto diverse riunioni con i consiglieri comunali, con gli assessori, con i tecnici. Purtroppo ciò che serve veramente è il maggiore senso civico che è quello che manca, il rispetto delle regole perché è anche io stessa che percorro tutte le mattine questa strada per andare al lavoro, per accompagnare i bambini a scuola. Vedo che la gente dalle auto chatta, telefona, addirittura inveisce contro chi c'è dall'altra parte della cornetta. Quindi è impossibile questa situazione. Bisogna fare veramente qualcosa. E se è necessario anche l'ausilio delle forze dell'ordine e quindi dell'esercito. Proprio come diceva il sindaco, l'inizio della sua prima adunanza. E restiamo a Catania, settimane di protesta questa mattina davanti il monastero dei Benedettini contro la riforma dell'accesso all'insegnamento a promuoverlo e l'associazione COINEE. La recente riforma sull'accesso all'insegnamento promulgata dalla Tolle Governo ha introdotto nuovi e stringenti criteri, oltre alla laurea infatti, necessari dei percorsi formativi per l'abilitazione che comportano dei costi onerosi. Stamattina davanti al monastero dei Benedettini di Catania ha avuto luogo un sitin di protesta contro la stessa riforma promossa dall'associazione COINEE di Catania. E oggi siamo davanti al monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche, per dire no a quella che è la riforma dell'accesso all'insegnamento. Oggi reputiamo inaccettabile quella che è stata una riforma calata dall'alto, al solito senza confrontare quelli che sono gli studenti e i docenti precari, che sono quelli che poi vivono sulla propria pelle tale riforma. Reputiamo inaccettabile che per accedere a quelli che sono i concorsi di abilitazione per la professione dell'insegnamento si debba pagare fino a 2.500 euro, scaricato e totalmente sulle spalle degli studenti e dei docenti precari, per riuscire a conseguire quei 60 CFU portati da 24 a 60 con questa riforma. E reputiamo inaccettabile il fatto che ad oggi per conseguire il proprio sogno sono tanti gli amici e le amiche, i colleghi e le colleghe che vogliono diventare insegnanti, lo vogliono diventare da quando sono dei bambini e che oggi si trovano davanti a un vero e proprio percorso ad ostacoli. Voltiamo pagina bellissima con grande talento ed elegantissima. A Catania erano tutti innamorati di lei. Il ricordo del giornalista Salvo La Rosa che Anna Canakis l'aveva conosciuta già alla fine degli anni 70 quando venne eletta Miss Italia. La nostra nota artista, morta prematuramente a 61 anni, frequentava il liceo Cutelli, una scuola invidiata anche per la sua presenza in quegli anni. Un'eleganza disarmante, una bellezza ed un talento che le hanno permesso di spaziare nella sua carriera artistica costellata da importanti traguardi. Il primo in giovanissime età, a soli 15 anni, Anna Canakis, scomparsa due giorni fa, a 61 anni dopo una breve malattia, da Catania diventò la Miss più famosa d'Italia. La prima in assoluto vincitrice al concorso di bellezza che per quell'anno apportò pure delle modifiche affinché l'allora minorenne Anna potesse gareggiare. Era il 1977. Nel capoluogo etneo non si parlava d'altro. L'attrice, modella, scrittrice, artista a tutto tondo a quel tempo andava ancora a scuola, frequentava il liceo classico Mario Cutelli, quindi a Firenze tutti eravamo innamorati di lei. Ci confida questa mattina il conduttore catanese Salvo La Rosa. Anna Canakis è stata ospite anche la tua trasmissione insieme, ma si ricorda la sua bellezza e la sua eleganza. Già nell'anno in cui fu eletta Miss Italia nel 77, la ricordate ragazzina all'epoca? Io avevo 14 anni, lei ne aveva 15, venne eletta perché bellissima, fu fatto anche un cambio al regolamento di Miss Italia, perché lei era ovviamente minorenne, venne eletta in Calabria, lo ricordo, e tutti restammo veramente colpiti dalla bellezza di questa ragazza di origini greche, ma catanese, andava al Cutelli. E quindi ci fu, devo dire, grande interesse nei suoi confronti. Eravamo tutti anche un po' innamorati, devo dire, di Anna Canakis, bellissima. La vediamo anche in questa immagine qui alle nostre spalle. Per cui devo dire che ieri la notizia della sua scomparsa mi ha colpito. Tra l'altro lei era appena un anno più grande di me, quindi è morta ancora in giovane età. Mi dispiace, mi dispiace moltissimo perché era una donna bellissima, elegante, garbata, perbene, anche molto brava, perché ebbe anche un buon successo subito dopo l'elezione a Miss Italia nel cinema, in teatro, divenne anche scrittrice, quindi insomma la ricorderemo per questa sua attività, devo dire, molto variegata. Quindi mi fa piacere ricordarla oggi anche attraverso la vostra emittente perché appunto in quel periodo era diventata un punto di riferimento per la sua bellezza, per la sua eleganza e anche perché rappresentava la nostra città e la nostra terra. Era un'icona tra l'altro molto vicina. C'era anche chi si freggiava di frequentare il Cutelli perché è appunto la scuola della Canaghi. Sì, dicevo appunto che tutti siamo rimasti abbagliati da questa bellezza e anche dal fatto che vinse Miss Italia che certamente, soprattutto in quel periodo, era certamente uno dei più importanti concorsi, non solo di bellezza ma anche, come dire, a livello di popolarità. Ed intanto l'Etna torna ad imbiancarsi di neve anche a quote più basse. L'abbassamento delle temperature di oggi ha portato il vulcano a tornare ad imbiancarsi di neve dopo le prime coltri bianche delle settimane scorse che si fermavano a circa 2.000 metri sopra il livello del mare. Quest'oggi è possibile vedere come la neve arrivi anche a quote altimetriche più basse. E adesso la pagina dello sport con il calcio Catania Lucarelli-Striglia, i suoi, il tecnico del Catania incentiva le sedute d'allenamento in vista dell'insidiosa trasferta a Giuliano. Intanto l'attaccante Bocic confida nella risalita in classifica. Ringalluzzito dalla vittoria in estremis di domenica scorsa, il Catania pensa alla prossima trasferta sulla difficile campo di Giuliano. Campani in grande salute in questo momento della stagione ma Lucarelli e i suoi vogliono subito dare un seguito per continuare a scalare la classifica. Squadra molto motivata e allenamenti serrati, condotti dalla tecnico livornese nel modulo tattico offensivo. Un ruolo importante occupa l'attaccante Bocic. Stiamo lavorando molto, molto... perché comunque ho finito poco fa l'allenamento, ecco. E siamo contenti e siamo sicuri che faremo un bel percorso da oggi. Rappresenti una piazza importante, ecco, come Catania e hai delle responsabilità perché comunque, come ho detto, rappresenti una città importante con una storia e siamo venuti qua non per, tra virgolette, perdere le partite, ecco. Siamo consapevoli che dobbiamo vincere perché comunque è una piazza che richiede, giustamente. e niente, alla fine è una cosa mentale che forse con il nuovo allenatore l'entusiasmo e tutto e la carica dei tifosi ci ha aiutato, ecco. Possiamo concentrarci ora sul Giuliano. È una partita molto difficile come tutte le altre partite che arriveranno perché il campionato di Serie C, soprattutto il Girono di C, è un campionato complesso ma comunque, nonostante tutto, siamo ancora lì e possiamo fare grandi cose e stiamo lavorando intensamente con il nuovo allenatore e ci stiamo preparando giorno per giorno. Stiamo lavorando tanto sui piazzati, ecco. Infatti, la scorsa partita abbiamo segnato su due piazzati, ecco. È molto importante perché comunque quando ci sono le gare chiuse queste cose fanno la differenza, ecco. Dopo questa notizia ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma non abbiamo ancora finito, vi aspettiamo. Di nuove studio ben tornati, nessuna ultima ora dalla redazione. Vediamo dunque insieme che tempo farà domani. Le previsioni meteo di domani, giovedì 23 novembre in Sicilia. La pioggia sarà diffusa su quasi tutto il territorio soprattutto al mattino. Sull'Etna previste nevicate sopra i 2.100 metri. I venti saranno forti di scirocco con rischio di mareggiate. Un'occhiata adesso alle temperature. I valori termici toccheranno massime di 21 gradi a Palermo, 18 a Catania. La città più fredda sarà Enna con 8 gradi di minima. Bene, è tutto per questa prima edizione di Ora Tg, ma la nostra informazione torna puntuale questa sera alle 19.45. Grazie per averci preferito. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.